Vali, sai che domani c'è la live 24 ore? Veramente? Sì, comunque ho visto, aveva mandato tipo Boxxy lo spam e è troppo fico, cioè non vedo l'ora. Minchia, 24 ore con Boxxy e tutti di LNC, che figata deve essere. Già. Salve! Ciao! Ciao, come va? Bene, tu? Eh, io un po' così, cioè credo che domani, il 5, devo andare a fare una commissione con mia madre, boh, una cosa del genere. La commissione? Una commissione, infatti. Ma guarda che domani c'è la live. Cosa? Sì, c'è la live. Bayon? Ci sei? Sì, c'è la live. Sì, c'è la live. Sì, c'è la live. AAAAAH! Aiuto! AAAAAH! Dici, ti ver... AAAAAH! 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 Non ci sono! Di tutti gli LNC! Come non ci sei? Non me l'hanno detto! No, no, aspetta, a noi ci han detto tutti, han detto tutti gli LNC, quindi ci dovresti essere. Infatti... No, non me l'hanno detto! Perché? Ma, ma... Perché? Ma ci non mi ha avvertito, non mi ha detto niente! Io non ci sono! Ce l'ha passato! Ma sei sicuro? Sì, non ho fatto niente, però... Loro mi hanno evitato, però... Non è giusto! Chiedilo a tuo papà! Mio padre è appeso, non c'è! Ma dove faccio? Potresti dire che la tua ragazza è incinta... Anche se non hai una ragazza, almeno credo. La mia vita fa schifo! Ma Boxy poteva dimolo una settimana prima, cazzo! E parla con Boxy! Ma Boxy non c'è a Venezia oggi! È vero, che scema! Adesso chiama in fire! Tutti mi stanno abbandonando! È a Venezia! È psycho, eh! Adesso gli faccio casino! Ma qualcuno! Chiamo NoSense! Vogliono lasciarmi senza un quattrino! Adesso gli rispondo... Aspetta, dov'è NoSense? Cioè, io non... Cioè, non mi avvisano! E poi non mi rispondono! E questo è il problema! Servizio di segreteria telefonica! Risponde 3, 7... Ma vi prendete per il culo! No, 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 Chris! Questa è una mancanza di rispetto! Eh, ascolta! Io sono venuto a sapere da Chris e Valeria che non sono nel... Mi hanno detto che la live è il 5! E io non sono stato avvertito! Come mai? Ma è... No, a me non mi ha avvertito Boxy! Non mi è arrivato nessun messaggio disco! Infatti vorrei parlare anche con lui adesso! Eh, chi ha fatto Boxy, guarda! Ok, grazie! Beh, sei andato? Pronto? Pronto, Boxy! Ciao, bello! Eh, ascolta! Non sono stato avvertito della live del 5! Io devo andare all'ospedale da mia nonna! Come mai? Cosa? Come cosa? Non fare finta di niente! Io ho saputo da Chris e Vale che il 5 c'è la live 24 ore! Ma se me l'ho detto anche io ieri! No, tu ieri non c'eri! Non dire cazzate! Eri sparito! C'è scritto! C'è scritto un messaggio! Leggilo da il tavoce! Cosa c'è scritto? Cioè, c'è scritto... Mi hai anche risposto ieri sera chiedendomi la roba della zombola! No, c'è scritto se riesci gli altri lo stanno facendo ora provo anche io l'ultimo messaggio! Prima ancora? Cosa c'è scritto? Ho risposto non so! No, prima ancora! Eh, micchia! Eh, non so! Fai il video il prima possibile! Prima ancora! Quando ti ho chiesto di fare il video non le risposte che ti ho dato le tue risposte! Eh, vabbè! Che cazzo! Non mi spieghi! Allora! Puoi pubblicare un mini video dove dici che ci sarà una live il 5 dicembre dalle 8 alle 8 del giorno dopo! Puoi pubblicare un mini video dove dici che ci sarà una live il 5 gennaio? Non lo so! C'è scritto il 5 dicembre! Vabbè! Hai capito! Ho sbagliato! Eh, no! Non va bene! Non mi hai avvertito! Il 5 dicembre è passato! Aspetta un attimo che devo fare... Aspetta! Eh, allora! Lui mi ha mandato un messaggio scrivendo che ci sarà la live il 5 dicembre! Esatto! Eh, ma no! È già passato! Non è possibile! Eh, mi dispiace! Devi rifare la visione del tempo! Vai! Come devo rifare il tempo? Non posso tornare indietro! Devi... Chiaggiare! No! Mai è passato! Devo tornare indietro! Come modificiamo la storia! Ah, ti considero! Ah, sono stato considerato! Va bene! Allora adesso mi sento molto meglio! Ma... Da allora fino alle 4? Eh, beh! Da allora fino alle 4 e mezzo devi portare del mattino puoi portare quello che ci fare! Davvero! Davvero! Ti dàvi via libero a voi! Ci va a parlare a voi! Tutto quello che vuoi! Con chi vuoi! Ma basta che non fai vestiti bene e chiede! Ma stai tranquillo! Che tu potrai quello che vuoi! Beh, allora mia nonna la posso anche lasciare in pace! Chi se ne frega! No, no! Ok! Va bene, va bene! Va bene, grazie! Vi siete salvati per questa volta! Ma la prossima volta... Mi dovete avvisare due mesi prima! Ecco! Va bene! Sono Bayon Community! Beh, io sono Bayon Community! E nessuno mi può mandare via! Perché io sono il migliore, cazzo! Credo! Va! Credo! Grazie, non senso! Mi avete parato il culo questa volta! Niente! Va bene! Ci vediamo! Ciao! Il 5 dicembre, non il 5 gennaio! Eh, avranno sbagliato! Non è giusto! Io, quando uno mi dice 5 dicembre, siamo allo 04 gennaio! Non vuol dire 05 gennaio! Vuol dire 05 dicembre! È già passato! Quindi loro hanno fatto una live il 5 dicembre che io non c'ero! Ecco! Questo è il punto! No, guarda che è la prima! No! 5 dicembre è prima di gennaio! Ecco! No! È la prima che fanno da 24! No! Perché loro hanno detto che hanno fatto una live il 5 dicembre! Dalle 8 alle 8! Quindi, l'hanno fatta! Chris, non mentire! Tu mi stai nascondendo qualcosa e io scoprirò la verità! Allora non ce l'ho nemmeno io! Esatto! E la nostra cosa fa incazzare anche a me! Bravo! Hai visto? Incazzati anche tu adesso! Bravo! Eh, che cazzo! Io... Io... Io sarò lì! Eh! Io... Io sarò lì, capito? Io sarò lì per il 23-24 l'una, non me lo ricordo più! Allora le 4 sono su... Sulle 5 gennaio sono in live! E anche forse prima perché mi metterò... Adesso loro hanno detto fino all'una alle 4! Ma io... Ma io farò una cosa di più astuzia, no? Ma io... Io mi... Mi intruffulerò anche prima, capito? Così almeno gli frego! Proprio all'improvviso! Entra e faccio... Salve a tutti! Hai capito? E li frego tutti quanti! Contento tu! Contento me e contenti tutti! Hai capito? Eh! Quindi... No, io non sono contenta! Vabbè, ma a me di te non... Niente! Scherzo! Ah no! Grazie! Quindi niente ragazzi, io sono contento che sono nella live di 24 ore, anche se ho le mani che tremano e ho paura di questa live di 24 ore! Finalmente i nodi sono venuti al pettine! Il pettine è venuto ai nodi! Qualcosa del genere! E quindi mi troverete in live di LNC 24... No, 24 su 24, perché sicuramente non ci sarò! Vabbè, ma mi intruffulerò un pochettino! E quindi finalmente mi hanno avvertito... 6 ore prima? Per giù? 6 ore prima? Sempre meglio dopo che... Meglio tardi che mai, ecco! Scusa! E quindi dopo aver pianto, aver sofferto... Eh, io vado adesso! Ci sarò dall'1 alle 4 di notte per intrattenervi nei giochi horror! La cosa che tutti amano, che tutti vogliono vedere, capito? E questa cosa ve la dico e la vedrete! Il mio microfono si è spostato nel mentre! Eccomi qua! Si sposta il mio microfono! Sperando che non ti sposti durante la live! No, si sta già spostando! Rimani fermo! E quindi ragazzi, da Chris Valeria e Bayon Community, salutate! Ciao! E tutto, ci vediamo domani nella live, ecco!